Quelle che state vedendo sono le imbarcazioni fluviali in Malesia. Come potete vedere il parco barche è alla stregua delle barche di braccio di ferro. Anzi, a confronto la barchetta di braccio di ferro era un super luxus. Queste sono le imbarcazioni del porto fluviale. Questa è l'imbarcazione passeggeri. È possibile spostarsi non solo in aereo in Malesia, non solo in auto, ma spesso e volentieri occorre anche prendere le imbarcazioni fluviali che attraversano i fiumi in località dove spessissimo non ci sono ponti, raggiungono le isolette. Per cui dovete anche abituarvi a prendere questo tipo di imbarcazioni. La classica barca di braccio di ferro. Ci sentiamo alla prossima.